Ben ritrovati signori, in questo nuovo video abbiamo da commentare quella che è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Juventus Genoa di domani, domenica 17 marzo, si gioca alle ore 12.30, non dimenticatevi questo dettaglio non da poco, se siete interessati a vedere la partita domani a ora di pranzo alla mezza. Non ci sarà live su Twitch perché sarò allo stadio, vi ho già comunicato questa cosa qui, poi vedremo di recuperare comunque dato che ci sarà qualche giorno libero data la pausa dedicata alle nazionali avremo la possibilità di fare altri contenuti, altre dirette di discussione insieme. Ci sono un paio di cose su cui vorrei soffermarmi, maggiormente per il resto è stata la solita conferenza stampa standard precostruita di Allegri con le stesse due o tre risposte che continuano a girare da un anno a questa parte, però ci sono un paio di cose che vorrei sottolineare insieme a voi e commentare insieme a voi. Intanto la prima domanda è quella di Rito, del canale ufficiale della Juventus, quindi come sta la squadra? Gli Allegri dice, è stata una buona settimana di lavoro, siamo coscienti del momento che stiamo attraversando, abbiamo lavorato bene, ieri siamo rimasti in continassa tutti perché sappiamo dell'importanza di questa partita. Abbiamo perso Milik che ha avuto un problemino ieri e oggi è ancora fastidio, va rivalutato dopo la sosta, tra gli altri rientreranno Perin, Desciglio e Rabiot, bisogna vedere le cose in maniera positiva. Allora, intanto perdiamo un giocatore, Milik, che era stato titolare nell'ultima partita con l'Atalanta e aveva pure fatto gol. Dopo arriveremo a parlare del problemino di Milik perché c'è un po' di mistero intorno a questa cosa qui e sono curioso di sapere anche la vostra opinione. Ma soprattutto rientra Desciglio, giocatore che era stato abbandonato tra virgolette dalle gerarchie Juve poiché era impegnato a recuperare da un grave infortunio e tra l'altro è esattamente quello che in questo momento sta succedendo a me, problemi con il ginocchio, operazione al ginocchio e quindi un grosso in bocca al lupo a Desciglio che domani torna a essere convocato dopo questo calvario. E poi si parla di questo ritiro che non è un ritiro punitivo, questa era una cosa chiara già da ieri, però ci sono state un paio di incongruenze da parte dell'Egri e ne parleremo nel finale. E poi chiede Giovanni Albanese, mi può descrivere il momento delicato della squadra in relazione a quello che era successo l'anno scorso? E' un momento in cui occorre riprendere il cammino che ci è mancato in questo ultimo mese. Domani è importante per tutti, i tifosi ci sono sempre stati vicini e ci saranno anche domani, questo è molto importante per noi. Qui va un po' in contraposizione con le parole della settimana scorsa, dove Allegri si era un po' lamentato di quella che era stata la reazione dello Stadium al fischio di fine primo tempo. E quindi alcuni fischi, alcune contestazioni, perché la Juventus si ritrovava ancora una volta sotto. Dice, sappiamo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere, cioè questa qualificazione in Champions e poi una semifinale di Coppa Italia a giocare. Qui ovviamente non gli era stato domandato, ma come al solito sappiamo che Allegri quando vuol dire una cosa non importa che gli venga chiesta, ma risponderà come gli pare a lui. E poi gli chiedono, momento Kostic. E dice, domani ha probabilità di giocare, quindi dovremmo rivedere Kostic e titolare domani al posto di Ealing che aveva giocato le ultime due. È stata una scelta tecnica perché Ealing stava facendo bene l'allenamento e sono scelte anche per motivare tutti i singoli giocatori. Ealing ha fatto due belle partite. E sappiamo che solitamente quando c'è la carezza nei confronti di un giocatore che può essere considerato in ballottaggio è perché quel giocatore non giocherà. Quindi immagino che Ealing che ha fatto delle belle partite si è preso la sua carezza e dall'altra parte invece Kostic sia destinato a tornare titolare all'interno del 3-5-2 sulla corsia di sinistra. Ealing l'ha spiegato, sono scelte per motivare tutti i giocatori, forse aveva visto Kostic un po' seduto sugli allori ultimamente. E in effetti è un giocatore che da un po' di tempo a questa parte diciamo che è necessario mandare al prato per rimanere all'interno delle metafore legate a Massimiliano Allegri. E poi giustamente chiedono, ma allora che cos'ha Milik? E Allegri risponde per la lunga. Dice, abbiamo recuperato completamente Ken, abbiamo Vlaovic, abbiamo Chiesa, abbiamo Ildis. Milik aveva fatto anche una buona partita e gol, però oggi pomeriggio uscirà il comunicato con il bollettino medico e quindi saprete tutto dal comunicato. Ecco qua, ne sono un po' meravigliato. Perché questo allone di mistero, questa volontà di non dire esattamente che cosa ha Milik? Mi rifiuto di credere che Allegri non sappia che cosa ha Milik. Almeno anche solo una considerazione alla lontana, guarda, gli ha creduto una roba di questo tipo. No, niente, zitto e muto. Molto strano e quindi sono curioso di leggere il bollettino medico e chiedo anche a voi, secondo voi, che cosa ha Milik e perché Allegri ha utilizzato questo metodo misterioso per dire portate pazienza e leggete direttamente da là? È una cosa abbastanza strana, abbastanza singolare. E poi c'è una domanda che secondo me è la domanda più importante di tutta la conferenza stampa, la stessa domanda che avrei fatto anch'io ad Allegri. Se avessi avuto la possibilità di fare una domanda ad Allegri oggi gli avrei domandato proprio questo, ci ho fatto un video sopra qualche giorno fa e la domanda arriva da Fabiana Della Valle. E dice, ma praticamente la Juventus si è qualificata al mondiale per club, no? Però tu hai incontrato in scadenza il 30 giugno 25 e quindi come la mettiamo? Andresti a giocarlo? Hai bisogno del rinnovo? Andresti a iniziare una nuova stagione anche in scadenza di contratto e quindi con la possibilità poi di non giocarlo questo mondiale? Domanda molto interessante, eh? Perché qua si può mettere un pochettino in difficoltà Allegri. E Allegri risponde anche qui a suo modo, no? Non rispondendo, andandoci intorno e ripetendo cose in serie a modi default. E dice, per quanto riguarda il risultato del mondiale è frutto di un lavoro fatto dal club negli ultimi anni. E va bene, è qui, c'eravamo. Per quanto riguarda il resto, in questo momento ho un anno di contratto e sono molto sereno. Eh, serenissimo, guarda. Già nella conferenza stampa per Napoli si è avvertita molta serenità e anche le dichiarazioni della gente di Allegri e di Branchini erano state considerate molto serene. Devo proprio dire che è serenissimo. Dobbiamo essere molto concentrati sugli obiettivi di quest'anno perché momentaneamente abbiamo raggiunto il mondiale per club che sarà un'avventura bellissima. Competizione nuova, con grandissime squadre e sarà bello. Per quanto invece riguarda gli obiettivi da raggiungere, cosa che non gli era stata domandata, gli era stato chiesto, si avrebbe iniziato in scadenza. Però per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere ne abbiamo uno importante. Oh, indovinate qual è l'obiettivo importante che è la Juventus? Arrivare a giocare la Champions League l'anno prossimo. Torniamo sempre lì, anche se anche ieri abbiamo parlato della possibilità degli italiani di avere un quinto slot per la Champions per quanto riguarda il ranking. Devo dirvi la verità, il sorteggio di ieri è stato un pochino brutto per le italiane, e quindi viene messo abbastanza in dubbio anche questa possibilità. Poi devono succedere dei disastri, devono uscire praticamente tutte le italiane, anche se tutte non possono uscire perché avremo un derby italiano tra Milano e Roma, che secondo me sarà molto molto interessante. Però bisogna cercare di difendere eventualmente questa quinta posizione per la qualificazione Champions, anche se secondo me è qualcosa di strano perché Coppa dei Campioni con cinque squadre su venti, un quarto della Serie A in Champions. Non lo so, mi sembra sempre un po' una roba particolare. E per farlo dobbiamo fare un passettino alla volta per arrivare dentro la Champions League al 25 di maggio. E poi c'è un'altra domanda molto bella, la quale non avevo pensato, ma che forse è più interessante ancora rispetto a quella che avrei fatto io, e cioè, ma la polemica sul punto, la frase del punto recuperato al Bologna, oggi la ridirebbe uguale e soprattutto serve più guardarsi alle spalle o guardarsi avanti ai giocatori? Cosa fa piacere? Dire abbia recuperato un punto sul Bologna o guardare e vedere che il Milan ha un punto secondo in classifica? Domanda interessante, ma anche qui nemmeno a dirlo. Allegri ha giocato una carta difensiva. Non bisogna guardare né avanti né indietro. Non bisogna guardare né avanti né indietro, però la settimana scorsa abbiamo guardato indietro. Però adesso non bisogna guardarci né avanti né indietro. Molto bello, come al solito, però sappiamo che è così. Ma fare una vittoria domani serve fare una vittoria domani perché in casa nelle ultime quattro avrebbe vinte solo una. E io domani sono allo stadio, speriamo che possa essere due nelle ultime cinque, per riprendere il cammino che ci deve portare fino alla fine, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda domenica scorsa, è normale che il risultato tutti vorremmo sempre fare tre punti, ma vista prestazione e momento, un punto domenica è stato un buon punto contro una buona Atalanta, soprattutto dopo una buona prestazione. Ora, per me è stata una prestazione superiore agli standard di rendimento delle ultime partite che si erano giocate e in cui la Juve non si era vista fare una bella prestazione. Però se andiamo a prendere questa partita e la etichettiamo come standard di buona prestazione, bella prestazione, siccome siamo abbastanza distanti. Sono partite in cui si è provato sicuramente le ultime tre a fare qualcosa di diverso. Frosinone, Napoli e Atalanta sono partite in cui l'intensità del pressing è stata la stessa, ma l'efficacia è stata maggiore. Questi sono proprio dati, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno alla BoboTV quando siamo andati a fare l'analisi di queste partite della Juventus. Poiché questo sia sufficiente per etichettarla come belle partite, non mi si trova assolutamente d'accordo, così come non mi trova d'accordo il prendere la prestazione soltanto quando non arriva il risultato che vogliamo noi, invece quando arriva il risultato che vogliamo noi la prestazione non serve a niente perché tanto hai vinto, allora non si perde mai, si casca sempre in piedi. Però anche questo fa parte del modo di comunicare di Massimiliano Allegri, non lo scopriamo certo oggi, è un metodo comunicativo che utilizza molto spesso nelle conferenze stampa, dato che le abbiamo commentate praticamente tutte da quando è tornato, sappiamo che è così. Sono belle prestazioni ma con errori, perché indipendentemente dal risultato dobbiamo analizzare gli errori che facciamo all'interno della partita. E qui secondo me dovrebbe essere questa la domanda in cui secondo me c'è un po' più da discutere, vediamo se effettivamente è questa oppure no. Allora, no non è questa purtroppo, però si attacca. Fase difensiva, la tematica è la fase difensiva. Paradossalmente nelle ultime partite abbiamo subito poche occasioni e hanno preso molti gol. Sì, nell'ultima con l'Atalanta sì, le ultime tre sì, oggettivamente sì. Con il Napoli secondo me la sconfitta è stata molto larga, con il Frosinone, il Frosinone ha fatto la sua partita ma tante occasioni non le ha create, quindi sì, penso che sia un'analisi abbastanza giusta delle ultime tre, nello specifico, non in quelle prima. Ci sono momenti dove alla prima o seconda occasione per disattenzione e prendi gol. Quindi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e soprattutto per avere un po' più di attenzione a come difendiamo come squadra, non solo dei singoli. Aspetto a commentare queste dichiarazioni perché appunto si ricollega là dopo. E chiedono, Rabiot è mancato? Dato che domani sarà a disposizione. E Lever dice, 90 minuti non li ha. Ha fatto un allenamento con la squadra dopo il differenziato. Già avere un'esposizione è un bel segnale. E poi chiedono, come avete utilizzato questo tempo assieme con la serata in più? E che cosa è emerso? E soprattutto perché la percezione di Juventus tra il primo e il secondo tempo cambia tanto? Che cosa scatta? E Allegri risponde, e qua secondo me c'è tanta discussione. Il calcio non è una scienza esatta, vabbè, sempre verde di Allegri. Abbiamo fatto partite dove all'inizio facevamo subito gol e poi non lo prendevamo più. Adesso ci sono momenti in cui fai gol nel secondo tempo e lo prendi nel primo. Ultimamente le partite sono state altalenanti. Allora, è vero? Perché tante partite quest'anno segnavi gol subito e poi non riuscivi a prendere gol. Gli altri non erano capaci di prenderti gol, di farti gol, di farti prendere gol. Però poi, allora, quando prima abbiamo parlato di prestazioni, andiamo ad analizzare anche queste. E tante di quelle prestazioni non sono state di livello, dato che comunque, anche al di là del risultato, gli errori vanno presi in considerazione per migliorare. Io questi miglioramenti nella Juventus non li vedo. Io non li vedo. Nel macro arco del periodo sportivo dei tre anni della Ligribis questi miglioramenti non li vedo. Faccio fatica a toccarli. Qualcosa di concreto dal punto di vista sportivo io faccio fatica a toccarlo. Perché sono sempre gli stessi problemi, sempre le stesse stagioni che ripetano sempre le stesse problematiche. Quindi, è anche il fatto che se c'era il momento in cui facevi gol e poi non lo prendevi, invece adesso prendi gol e poi magari non lo fai, non è che puoi accettare che siano momenti. Cioè, bisogna lavorarci, ma metterci davvero le mani, non dire, vabbè, sono momenti, capita il calcio, è fatto così. No, non esiste, perché allora saremo tutti in grado di farlo, l'allenatore della Juventus. Se la prendiamo con la filosofia che prima o poi le cose comunque andranno bene, torneranno a essere come una volta. Se prima andava bene, allora sicuramente... No, ma non funziona così. Questa è una filosofia che non può appartenere al professionismo. A questi livelli sicuramente no. Può essere un discorso amatoriale, può essere un discorso da terza categoria, ma non può essere un discorso da Juventus. Si è pagati per fare questa roba e tutti i giorni della loro vita sono profumatamente pagati e impegnati per migliorare e far arrivare dei risultati. Non si può semplicemente dire, vabbè, ora va così, prima andava a colà, vedremo quando tornerà ad andare come prima. Ma non esiste. E poi dice, dove dobbiamo migliorare? Dobbiamo rimanere ordinati, avere la compattezza nei movimenti senza palla, perché è una fase in cui ultimamente rischiamo troppo. A me dispiace che il problema ricada sempre lì, sulla fase difensiva, perché secondo me nelle ultime tre partite la Juve ha sì cercato di fare qualcosa di diverso, cercando di massimizzare il pressing, che già c'era anche prima la reaggressione, è una cosa che la Juventus quest'anno ha sempre avuto. Il problema è che l'intensità della reaggressione era pari a quella dell'Inter statisticamente fino a qualche settimana fa. Era l'efficacia la grande differenza, perché la Juventus magari la faceva, ma la faceva male la reaggressione palla. Non andava a recuperare la palla già quando gli avversari la perdevano nella metà campo offensiva della Juve. Ci provava, ma non ci riusciva. Nelle ultime tre ci si è riusciti di più. Perché si è tornati a quelli che erano i dettami delle prime giornate di campionato? Perché Allegri la settimana scorsa ci ha ripetuto ancora una volta che se continui a prendere due gol ogni partita è difficile fare il risultato. Quindi se tu continui a prendere due gol devi migliorare in zona gol. E la Juventus è iniziato a segnare di più e a prendere più gol. È diventata quasi una squadra zemaniana, se vogliamo. Basti pensare che l'unica vittoria era con un 3-2, che è sì cortomuso, ma è un cortomuso dove hai subito due gol. Quindi bisogna fare anche questo tipo di ragionamento. E secondo me lì si erano spiegate anche le scelte legate a giocatori come Healing al posto di Kostic o le assenze di McKennie e Rabiot, quindi giocatori come Alcarazzo e Miretti. Poi ci sono stati delle infortuni, dei recuperi infortuni, Alcarazzo e McKennie, le sappiamo. Però questa volontà di fare una partita diversa rispetto a quelle che si erano fatte da Empoli fino alla partita prima del Frosinone. Juve-Empoli è la partita prima di Juventus-Frosinone. Però non è sempre solo il discorso senza palla, la compattezza quando non hai la palla, migliorare quando attacca gli altri. C'è come se il problema della Juve fosse questo. Il problema grosso della Juve è che quando invece abbiamo la palla noi non sappiamo come sviluppare. Perché anche il pressing, la riaggressione, sono tutte cose che fai quando non hai la palla. Quindi io sono anche un po' stanco di sentire che la Juve deve allenarsi e migliorare quando non ha la palla. Ma quando ha la palla, quando migliorerà mai? Perché tantissime volte abbiamo sentito senza palla, senza palla, difendere, migliorare, più attenti, più dettagli, i momenti. Però quando iniziamo a mettere nella testa che cavolo se la Juve ha la palla c'è caso che questi momenti siano minori. Se ho la palla io non mi fanno gol. A meno che non sbagli i passaggi o robe del genere. Però se ho la palla io è molto difficile che gli altri mi facciano gol. Quindi cerchiamo di migliorare quando abbiamo la palla noi, non quando ha la palla quegli altri. Che l'ho già sentito fino allo sfinimento, fino al vomito questo concetto. Non funziona. Questo concetto che tra anni che ci portiamo dietro quando ha la palla agli altri o ragazzi non sta funzionando. Non so fino a quanto dovremmo andare avanti, quante altre possibilità, chance, scuse, alibi, stagioni, così dovremmo fare. Fino a che non funzionerà e quella volta diremo allora vedi che funziona ignorando tutto quello che c'è stato dietro. E quello è cherry picking. Non è l'analisi della situazione. Questa è proprio una roba che mi dà noia. Questa è la cosa che mi dispiace di più sentire anche in questo momento di difficoltà dove non ci si prova a mettere in dubbio, in gioco, cercare un cambiamento. No! Bisogna essere più compatti, bisogna essere più tranquilli. Quando non abbia la palla e bla 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 bla. E non è sempre questo ragazzi. Non è sempre questo. Ieri abbiamo fatto allenamento dalle 15.30 fino alle 18.00. Tempo di una doccia eravamo tutti a cena insieme. Stamattina l'altro allenamento non è stata una punizione ma un momento di responsabilità che dovevamo avere. Tra l'altro se ho capito bene da quello che sono riuscito a raccogliere anche oggi la Juventus sarà poi il ritiro alla continassa e rimarrà fino a domani dato che poi alla mattina andrà allo stadio visto che si gioca alle 12.30. Altra domanda interessante è sulla gestione di Ildis perché effettivamente Ildis potrebbe andare benissimo a chi l'ha visto il mercoledì sera. E lei dice ma niente dopo due o tre partite fatte bene l'ho visto un po' in calo e Chiesa stava tornando in buona condizione. Anche qui la possibilità di vederli tutti insieme sia Chiesa che Ildis lo so che può sembrare particolare ma nel calcio si può giocare anche con tutti e due insieme oltre anche a Vlauvi cioè si può giocare anche con tre attaccanti. Lo so che qualcuno di voi sarà caduto dalla sedia di fronte a questa rivelazione ma è possibile anche cercare di inserire più di due attaccanti. Si può giocare anche con un 3-4-2-1 un 3-4-3 un 3-4-1-2 un 4-3-3 un 4-2-3-1 cioè sono tutte cose che si possono fare e forse aiuterebbe anche a gestire un po' di più la palla e toglierla anche un po' gli avversari potrebbe aiutare anche da questo punto di vista quindi si potrebbe lavorare nel massimizzare quando si ha la palla noi cioè sono tutte cose che lo so che ma si può fare cioè l'importante è volerlo mettersi lì farlo ma si può fare quindi che il fatto che è sembrato un po' in calo boh io ne ho visti tanti giocatori in calo una Juventus mica solo Ildis però Ildis è diverso perché? perché è un 2005 e non prendiamoci in giro le partite durano tanto i cambi diventano importanti ultimamente ha giocato meno sì ma Ildis in questa Juventus qui che faccia panchina ha poco senso cioè permettetemelo che faccia tre minuti contro l'Atalanta più recupero questo Ildis qua in questa Juve qua non ha tanto senso ora sta bene è un giocatore che avrà un futuro importante ma vanno lasciati crescere in totale serenità e senza responsabilità e no invece adesso c'è bisogno che tutti si assumano le loro responsabilità che non significa che non vada lasciato crescere tranquillo e sereno però significa che tutti in questo momento se vogliono rimanere con la casacca della Juventus addosso o la divisa da rappresentanza della Juventus andare a fare le conferenze stampe o la giacca della Juve andare in panchina ad allenare tutti bisogna che si assumano un po' di più di responsabilità partendo dal ritiro che è stata una cosa bella è una cosa condivisibile bla 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 però c'è anche la necessità di dire cavolo se ho bisogno di Chiesa e Ildiz insieme è che devo essere proprio obbligato a non farlo la scelta del ritiro era più una cosa che ho deciso martedì poi non ho parlato con la squadra e siamo rimasti una sera in più niente di più ecco anche qua io sapevo che in realtà non è una cosa decisa martedì bensì è una cosa organizzata ieri poi magari Allegri aveva deciso martedì però è stata proprio una roba organizzata ieri dove i calciatori hanno fatto proprio questo tipo di allenamento perché poi sarebbero rimasti in ritiro però di più di questo non vi sto dire mi avevano detto così praticamente nella serata di ieri voglio sapere anche un po' le vostre considerazioni signori tante tematiche secondo me quella più importante di cui discutere oggi è quel discorso legato a quando è bella palla e quando non è bella palla perché siamo al 16 marzo 2024 l'Allegri 1.0 è un conto l'Allegri 2.0 è al secondo anno e tre quarti e siamo ancora qua che ragioniamo di quando non abbiamo la palla noi perché dobbiamo subire meno gol dopo adesso non mi ricordo vado a memoria mi pare 138 partite fatte e 133 gol subiti una media di 0,95 gol a partita praticamente un gol subito a partita da quando è iniziato l'Allegri 1 quindi sentirmi dire ancora eh ma quando non abbiamo la palla dobbiamo stare più attenti e difendere meglio per me è anche abbastanza offensivo nei confronti di quella che è l'onestà intellettuale di chi ascolta fatemi sapere la vostra ciao ragazzi